Capeggiata da due consiglieri comunali uscenti, Giovanni Fontana e Francesco Panaroni, è stata presentata la lista elettorale del Movimento 5 Stelle che ha aderito alla coalizione dei progressisti con Stefano Marcheggiani, sindaco. Nell'elenco manca il nome di Tommaso Mazzanti, che si è distinto nell'ultima civica assise per serietà, compostezza e competenza. Mazzanti si è dovuto trasferire a Roma, dove ha ricevuto un'offerta occupazionale dalla RAI. In lista figurano Andrea Serafini, attuale referente del gruppo territoriale, e candidati di varia età e vari interessi, dalla più giovane Matilde Bernabucci, studentessa di 18 anni, al più anziano Massimo Ceresani, pensionato di 79. Introdotti dalla coordinatrice provinciale e consigliera regionale Marta Ruggeri, si sono presentati, oltre a Matilde, anche Anna Maria Gaudino, in difesa delle donne vittime di violenza, l'assistente sociale Giacomo Furlani, Federico Tinello, operatore del pronto soccorso. Ma sentiamo i due capilista. E' la prima volta che il Movimento 5 Stelle si presenta in coalizione ad un appuntamento elettorale. Cos'è cambiato Giovanni Fontana rispetto al passato? Si cresce, si matura, le cose cambiano negli anni. Questo tipo di scelta è stata una scelta ponderata al massimo. Abbiamo trovato nella persona Stefano Marcheggiani, la persona che ha riunito in pratica tutto quello che è il sentore delle 5, tutte e 5 le liste che si sono unite, anzi veramente sono 8, poi alla fine siamo riusciti a farne 5 di liste da presentarci in coalizione. E' riuscito a trovare la sindesi di tutti i punti che noi portiamo avanti storicamente da anni, parliamo di ambiente, di partecipazione per quanto ci riguarda. Quindi la persona Stefano Marcheggiani è stata la soluzione al problema che si era creato con l'altra parte di centro-sinistra che noi abbiamo appoggiato in pieno e convintamente. Quindi il legame di una coalizione con partiti così diversi è il programma? Le nostre famose 5 stelle ci sono tutte nel programma di coalizione, oltre che nel nostro ovviamente, quindi ci siamo ritrovati benissimo in questo contesto. E continuerà a brillare la stella del bilancio partecipato? Ovviamente, ovviamente è stata una battaglia dura, faticosa, che però ha avuto un grossissimo successo, quindi verrà sicuramente riproposta, anzi verrà allargata anche in altri settori, perché la partecipazione dei cittadini fatta concretamente, non a parole come per tante cose che sono successe negli anni passati, è importantissima. Le scelte sono condivise, la coprogettazione, si parlano di coprogettazione, va fatta con i cittadini. Francesco Panaroni, una battaglia fatta in favore soprattutto dello sport nell'ultima tornata amministrativa? Sì, noi abbiamo sempre voluto pungolare l'amministrazione a fare in modo tale che lo sport possa essere alla portata di tutti, con le giuste attrezzature. Purtroppo Fano è noto che non è piena di attrezzature all'altezza del numero anche di ragazzi, di persone o di anziani che vogliono fare sport. Nel nostro programma di governo, augurandoci che saremo noi a governare la città, sicuramente ci sarà la manutenzione ordinaria di quelli che sono tutti gli impianti attualmente in essere nella città di Fano. Ma anche la progettazione di nuovi impianti e di rimesse in funzione di impianti che magari troppo presto vengono accantonati. Ci vuole una programmazione seria e noi siamo convinti e sicuri che con Marchegiani, Sindaco, questa programmazione si farà. E la presenza del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale oppure nei giusti meccanismi della nuova struttura dirigenziale e amministrativa della città di Fano possa essere un fatto positivo, un valore aggiunto, come si dice di solito, per far sì che Fano aumenti il suo livello culturale e il suo livello di benessere nei confronti di tutta la popolazione.